Spettacolo e cultura, la rubrica d'approfondimento a cura di Federico Mancini. Spettacolo e cultura, la rubrica d'approfondimento a cura di Federico Mancini. Spettacolo e cultura, la rubrica d'approfondimento a cura di Federico Mancini. Spettacolo e cultura, la rubrica d'approfondimento a cura di Federico Mancini. Spettacolo e cultura, la rubrica d'approfondimento a cura di Federico Mancini. Hai chiamato il radio pacchi? Ma che radio pacchi? Un pa! Micia, ignoriamo, ci siamo io e te, sai che io ti amo, non vedo l'ora che tu sia qui, passi, però dico io, sono tanto felice, senti, non fare tardi eh, no, 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 senti, stasera usciamo però, facciamo oltre la mezzanotte, mezzanotte, no, ho detto di mezzanotte, no, ho detto di gloria, mezzanotte, ma che mezzanotte? Anzi lo era, pronto, sarà un po' per l'altro, ormai rintoccano le due, Sanremo, ma non importa, sono felice, voglio restare vicino così, ti vedi sì, amore, senti, senti, lasciamo perdere, ci risentiamo dopo, va bene, ciao, un bacino, un bacino, un bacino, pronto, pronto, Micia, bacino, come al solito? Sì, da che parte sei del letto? Io sono a sinistra, io a destra, allora via, al tre, allora, uno, due, tre. Grazie! Grazie!